Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. La cronaca in apertura all'incidente stradale di sabato pomeriggio a Ortona. La Polstrada ha consegnato l'informativa preliminare alla procura di Chieti sull'incidente avvenuto appunto sabato pomeriggio. Ieri sono stati celebrati i funerali delle due vittime, madre e figlia, ricoverato in coma il padre. La società Autostrade informa gli automobilisti dei lavori di ripristino in corso per incidente tre giorni dopo il violento impatto che a Ortona ha causato la morte di Emanuela Morosini, 39 anni, di Pescara e di sua figlia Vittoria, Ristone, di Dieci. A bordo della Golf, su cui viaggiavano in direzione sud, sono volati giù dal viadotto Riccio dell'A14, schiantandosi al suolo dopo circa 60 metri. Il marito e padre, Angelo Aristone, 40 anni, è ancora in stato di coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Pescara. La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiarita dagli inquirenti. La procura di Chieti ha ricevuto dagli agenti della Polstrada della sottosezione di Pescara l'informativa preliminare sull'accaduto. Dietro la barriera di calcestruzzo che la società autostrade ha fatto posizionare nelle ore dopo la tragedia, si nota ancora il guardrail visibilmente distrutto, verosimilmente sfondato dall'auto della famiglia Ristone. Un incidente che si sarebbe potuto evitare con il sistema delle New Jersey? Oggi sono in tanti a porsi la domanda. Il profilo del dispositivo di sicurezza è infatti realizzato appositamente per respingere il veicolo e allontanarlo dalla stessa barriera. Intanto si sono celebrati ieri i funerali di madre e figlia a Pescara mentre l'unico superside, marito e padre, è ricoverato in condizioni molto gravi. E sul tema si è espresso anche il presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio che torna a chiedere di considerare tra le infrastrutture strategiche della regione la realizzazione della terza corsia sull'autostrada del tratto che va da Pedaso a Vasto Sud richiesta che il presidente della provincia ha avanzato anche in passato alla società Autostrade dalla quale tuttavia ha ricevuto giustificazioni basate sull'insufficiente volume di traffico. È una direttrice costiera di una rilevanza fondamentale, ha detto il presidente di Giuseppe Antonio soprattutto nello sviluppo economico e turistico ed è percorsa ogni giorno da un numero notevole di mezzi pesanti purtroppo scenario di incidenti stradali, spesso mortali che giustificano la non sostenibilità, dice ancora Di Giuseppe Antonio dell'attuale configurazione a due corsie. Non dimentichiamo, conclude il presidente della provincia che il tratto abruzzese dell'A14 è una vera e propria cerniera fra nord e sud del paese non possiamo rischiare a fronte di notevole incidenza del traffico e mancanza di una viabilità alternativa il blocco della circolazione nelle due direzioni e di assistere a incidenti evitabili con l'introduzione della terza corsia. Ancora a cronaca un incidente sul lavoro un agricoltore di 56 anni Teodoro Altobelli di Frisa è morto schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando in un campo di località Badia di Frisa, 5 km da Lanciano. L'incidente mortale è stato scoperto in tarda mattinata dai familiari dell'uomo che lo stavano raggiungendo in campagna per il pranzo. Per rimuovere la salma è stato necessario l'intervento dei vigi del fuoco di Lanciano. Sul fatto indagano i carabinieri. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente il trattore gommato attrezzato con un trinciatutto sul posteriore si sarebbe ribaltato a causa di un dosso che l'uomo non avrebbe visto. A Pescara proseguono le indagini per fare chiarezza sulla vicenda del bambino di 3 anni morto il 24 maggio scorso dopo essere stato investito sulla rete ferroviaria. Proseguono le indagini per fare chiarezza sulla vicenda del bambino di 3 anni morto a Pescara il 24 maggio scorso dopo essere stato investito sulla rete ferroviaria all'altezza della stazione San Marco nella zona del Tribunale. Il bimbo stava giocando lungo i binari insieme al fratellino di 2 anni. Sull'accaduto la procura di Pescara ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Nei giorni scorsi sono stati ascoltati i genitori del piccolo, altri parenti ed alcuni testimoni oculari. La madre della piccola vittima ha detto che il giorno della tragedia i bambini stavano giocando tranquillamente nel cortile di casa. La donna ha raccontato agli investigatori di essersi distratta un attimo e di aver perso di vista i figli. La polizia ferroviaria sta ora incrociando tutte le dichiarazioni per ricostruire la dinamica e la tempistica dei fatti. La scorsa settimana il PM è tornato sul luogo della tragedia per fare un sopralluogo insieme alla scientifica e alla polizia ferroviaria. Il magistrato ha voluto ripercorrere personalmente la strada seguita dal bimbo. È finita a coltellate una lite tra vicini a Pescara, poi sedata dal personale della squadra volante che ha arrestato un 54enne. L'uomo, cigile iniziale, è accusato di minacce aggravate e lesioni aggravate ed è indagato in stato di libertà per danneggiamento aggravato, violazioni di domicilio e resistenza pubblico ufficiale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la lite tra condomini è accaduta in via Panaro a causa di alcuni lavori da svolgere nella corte condominiale. L'uomo avrebbe prima aggredito uno degli inquilini dello stabile danneggiando la porta d'ingresso dell'abitazione del malcapitato e l'autocarro. Poi rientrato in casa si sarebbe armato dei coltelli e sarebbe tornato alla carica nei confronti dello stesso condomino, aggredito poco prima colpendolo alla fronte con l'arma. Inoltre avrebbe scaraventato contro il muro e fratello della vittima. A quel punto sono arrivati gli uomini della volante che lo hanno arrestato. All'Aquila è stato firmato oggi tra l'Enel e la protezione civile il nuovo protocollo d'intesa per la gestione delle emergenze sul sistema elettrico nazionale. Non è stata una decisione casuale quella di firmare il protocollo d'intesa nazionale tra la protezione civile e l'Enel all'Aquila. Proprio nella città, simbolo per eccellenza delle emergenze e della distruzione a seguito del sisma del 2009, il maggior fornitore di energia nazionale ha sottoscritto un'intesa per la gestione delle emergenze sul sistema elettrico. La firma, che ha avuto luogo presso il centro di addestramento operativo di Enel, nato nel 2010 come area di addestramento anche per gli altri operatori dei produttori di energia, ha registrato la presenza del capo del Dipartimento della protezione civile, Franco Gabrielli, e dell'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, oltre al neopresidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Attraverso il nuovo accordo, della durata di due anni, sarà possibile rafforzare i rapporti di cooperazione e definire i piani di emergenza, specifici per ogni tipo di rischio con impatto sul servizio pubblico. Proprio quella criticità che nel 2009 furono messi a nudo all'Aquila e che si cercherà di ovviare anche attraverso la realizzazione della Smart City. Lo stesso sindaco dell'Aquila, Cialente, infatti, in conferenza stampa ha sottolineato come i comuni sono dotati dei piani di emergenza della protezione civile, ma che restano sulla carta senza le infrastrutture necessarie al funzionamento. Quindi l'ottimizzazione delle procedure dei flussi dei dati, la preparazione personale attraverso esercitazioni, nonché l'incremento dell'organico in Abruzzo con 120 giovani e la facilitazione delle relazioni tra Enel e Stato, potranno essere raggiunti grazie a questa intesa. Un nuovo impegno da parte dell'Enel per il Paese e per l'Aquila è stato assunto, dopo che l'azienda, leader nazionale per la fernitura di energia, ha preso come onere la realizzazione del progetto L'Aquila Smart City, che verrà una città ricostruita con le migliori tecnologie e sistemi energetici di cui l'Europa dispone. Quel che è sicuro è che dobbiamo mettere mano alla legge elettorale, facendo in modo che tutto sia più semplice, immediato e comprensibile nel come e nel cosa. Questo è il commento del presidente eletto della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a margine di un evento all'Aquila in merito all'impasse che si è venuto a creare sui risultati elettorali, che, come è noto, non sono ancora ufficiali, soprattutto su alcune posizioni di candidati consiglieri per problemi organizzativi, ma anche per la complessità della nuova legge elettorale abruzzese. In Occidente si beve sempre meno vino e allora si cercano nuovi mercati all'estero. Nasce per questi motivi una nuova figura professionale, che è quella del Wine Expert Manager. La figura dell'Export Manager del vino è stata al centro di un convegno del quale i giovani interessati a questa figura professionale hanno potuto ascoltare esperienze di chi opera nel settore. Un corso per la formazione di Wine Export Manager inizierà in autunno. A organizzarlo è l'ente accreditato Orienta Formazione con Alto Factory, network di professionisti che lavorano nel campo della consulenza aziendale. A rappresentare Alto Factory è Lisa De Leonardis. 160 ore durerà fino a aprile, grosso modo, del 2015. Ci saranno al suo interno moduli di economia, moduli di finanza, moduli di legislazione internazionale. Non tratteremo le lingue che invece sono un prerequisito necessario per potersi iscrivere. Devo dire, con una punta d'orgoglio, che sono arrivate oltre 100 domande di iscrizione a fronte di un'aula che potrà essere composta al massimo da 15 persone. Nel convegno sono state proposte anche l'esperienza di due Wine Export Manager in collegamento alla Singapore e Melbourne e hanno dato il loro contributo due produttrici, Chiara Ciavolic e Valentina Di Camillo, di tenuta ai Fauri, che per la sua azienda svolge proprio questo importante ruolo. La figura dell'Export Manager è sicuramente una chiave fondamentale per capire gusti, consumi. Quello che fa è riportare le informazioni dell'azienda nel mercato e dal mercato prendere informazioni utili perché l'azienda possa in qualche modo andare incontro al mercato o semplicemente scegliere di non fornire un mercato. Vino e cucina, binomio perfetto. Ne è convinto Lorenzo Pace, presidente dell'Associazione Italiana Cuochi di Pescara. L'Abruzzo si trova in un contesto molto positivo per ciò che riguarda l'export del vino. Io ritengo che forse dobbiamo impegnarci un po' di più a portare fuori anche le nostre materie prime attraverso dei seminari, degli incontri che riguardano la cucina e che possono far lavorare bene, cucinare, utilizzare questi prodotti del territorio all'estero. Nuovo logo celebrativo del bicentenario sulle auto dell'Arma dei Carabinieri. L'iniziativa è stata presentata oggi al Comando Provinciale di Chieti. Nell'ambito delle iniziative per la celebrazione del bicentenario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri nella caserma Gennaro Derelitto, sede del Comando Compagnia dei Carabinieri di Chieti, sono state esposte le autoradio con il nuovo logo celebrativo del bicentenario come quelle che a partire da giugno e fino alla fine dell'anno circoleranno in tutta Italia. L'iniziativa, ha spiegato il Maggiore Vincenzo Maresca, vuole ricordare i 200 anni dell'Arma. L'Arma dei Carabinieri, tra le tante iniziative, ha deciso anche di dare visibilità a questo evento eccezionale con la posizione di questi stemmi che vedete sulle nostre macchine radiomobili che sono in giro 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Il logo è composto da alcuni dei segni distintivi dell'Arma dei Carabinieri, tra i quali la granata con colle orecchiette, che al centro presenta un monogramma in rilievo composto dalle lettere intrecciate RE di Repubblica Italiana, sormontata da una fiamma. Il fregio sui berretti dell'Arma dal 1833 è l'emblema di tutti i carabinieri e richiama i concetti di onorabilità cavalleresca e di forma militare. Significa portare avanti i valori che fin dal ruolamento portiamo dentro e significa continuare a fare il nostro lavoro come lo Stato ci richiede. A livello territoriale, a livello locale, siamo vicini alla popolazione abruzzesa, in questo caso Teatina, cerchiamo di, come si vede con il nostro lavoro quotidiano, di reprimere tutti i reati, quando è ancora meglio prevenirli e come vediamo comunque, anche se qualche volta c'è qualche episodio spiacevole, la realtà è abbastanza tranquilla, anche grazie al lavoro dei carabinieri. Sotto la fiamma, sull'ista svolazzante di colore azzurro scuro, la frase è nei secoli fedele, creata dal capitano Cenisio Fusi in occasione del centenario dell'arma. Alla base del logo l'anno di fondazione 1814 e quello del bicentenario, appunto, 2014. Incidente di esecuzione pena lo ha chiesto Fabrizio Corona, il fotografo dei VIP al Tribunale di Lanciano, l'ultimo ad averlo condannato e quindi competente per vedersi non riconosciuta come definitiva una pena a due anni e dieci mesi di reclusione per il reato di spaccio di banconote false. Corona, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa, contesta la mancata notifica della sentenza. Vogliamo correggere, dice l'avvocato Chiesa, un errore della Procura di Milano a tutela del diritto. L'incidente di esecuzione mira in ogni caso ad ottenere uno sconto di pena per reati in continuazione che consentirebbe al fotografo dei VIP di abbassare il monte condanne da sette anni a meno di quattro e poter quindi presto uscire dal carcere puntando all'affidamento sociale. Il giudice Francesco Marino, PM Francesco Menditto, si è riservato di decidere. Lo stesso giudice condannò Corona lo scorso 21 gennaio a tre mesi e dieci giorni di arresto commutati in 25 mila euro di ammenda per il reato di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale disposto dal Tribunale di Milano, dopo che Corona partecipò ad uno spettacolo in un bar di Lanciano il 5 ottobre del 2012. La pagina dello sport, il calcio di serie B, previsto per venerdì, il rompete le righe con la Virtus che pensa al futuro. Mister Marco Baroni parlerà con la società del suo futuro a giorni. La Virtus tira il fiato, smaltisce le tossine di una stagione lunga ed estenuante. Si prepara ai saluti e ai titoli di coda di un anno comunque da ricordare. I rossoneri riprenderanno ad allenarsi giovedì alle 17 per poi ripetersi nell'ultima seduta il giorno dopo. Seguiranno i saluti, la cena sociale, il definitivo, rompete le righe. Proprio come nella passata stagione, i timori sono quelli di perdere l'allenatore. Baroni è legato alla Virtus da un altro anno di contratto, visto che in caso di salvezza il rapporto si è rinnovato automaticamente. Baroni però ha dichiarato di voler riflettere, di doversi sedere a tavolino con la dirigenza, scandagliare se ci siano o meno le stesse motivazioni di un anno prolifico che ha portato il Lanciano ad essere la grande rivelazione. Dovremo valutare insieme alla società, in primis ci saranno le condizioni ma anche le motivazioni da parte mia per continuare un rapporto di lavoro qua. Ripetere i 60 punti sarebbe tanta roba e dunque Baroni chiede garanzie a livello tecnico con possibili e maggiori investimenti. La società, virtuosa di nome e di fatto, difficilmente aprirà le porte a budget diversi e più onerosi. Comunque tra qualche giorno si terrà l'atteso incontro. Oltre al nodo del mister ci sarà da sciogliere quello relativo alla rifondazione della squadra composta da tanti giocatori in prestito. Vedi Sepe, De Col, Nunzella, Buckel, Casarini, Germano, Minotti, Comi, Falcinelli, Gatto e Ragazzo. Della Virtus, oltre ai portieri, Casadei, Amabile, Darilità, rimangono a Menta, Aquilanti, Ferrario, Mammarella, Tröst, Turchi, Di Cecco, Vastola, Piccolo. Tiame Branescu in comproprietà con la Juventus potrebbero volgere verso il rosso-nero. Il bilancio della stagione di Domenico Di Cecco. È stato un gran campionato perché poi arrivi a 30 anni che pensi sempre che hai quasi dato tutto quanto. Invece quest'anno forse grazie anche allo staff che è arrivato abbiamo capito che potevamo far di più. Il mister ce l'ha detto da inizio anno. La squadra può far di più e c'hava ragione. Quasi quasi ci usciva quello che ci poteva uscire quasi. 60 punti rimangono eh? Sì, sì, quelli non ce li togli nessuno. Lanciano esiste da 90 anni e mai nessuno ha fatto quello che abbiamo fatto noi. Quindi secondo me deve essere un banto. È chiaro che un po' ci speravamo tutti quanti perché la squadra secondo me per come ha giocato tutto l'anno se lo meritava. Però andrà così. Dobbiamo vivere senza rimpianti. Purtroppo c'è un mese di vacanza e poi ripartiamo a metà luglio. E pensa al futuro anche il Pescara che cerca di riportare Zeman sulla panchina. Quasi certo l'arrivo del dirigente Peppino Pavone che lavorerà al fianco di Giorgio Repetto. Il corteggiamento diventa insistente e dentro questa settimana il presidente Sebastiani incontrerà Zeman per conoscere le sue reali intenzioni. Il ritorno del Boemo in riva l'Adriatico si va col passare dei giorni più probabile col Bologna che nel frattempo ha allentato la pressione delle scorse settimane. Se non dovessero arrivare proposte allettanti dalla massima serie, vedi il Cagliari, il Delfino potrebbe spuntarla e da subito progettando poi con calma il Pescara che verrà. Altrimenti Davide Nicola, Massimo Drago e nelle ultime ore l'ex rossonero Carmine Gautieri potrebbero essere i papabili del dopo Cosmi che a sua volta non sarà riconfermato. Quasi certo l'arrivo al fianco di Giorgio Repetto di Peppino Pavone, osservatore della Sampdoria che darebbe una mano importante nell'allestimento del nuovo organico. Il Pescara comunque è già attivo. L'esterno offensivo Marco Frediani, classe 94, nell'ultimo anno all'Aquila, alla corte di Giovanni Pagliari e di proprietà della Roma, potrebbe presto vestire il bianco-azzurro. Intanto sentiamo il bilancio dell'attaccante Maniero. Purtroppo siamo partiti alla grande, poi abbiamo avuto un calo. Poi a gennaio siamo rientrati dalle vacanze che non si è capito perché sinceramente nessuno l'ha capito. Abbiamo avuto sei sconfitte consecutive dove poi è stato anche sonorato il mister, ma le colpe non erano sicuramente le sue, sono state e erano le nostre. Io sono del Pescara, ancora un altro anno qui di contratto, poi la società deciderà, a breve ci incontreremo, penso per parlare del futuro. Come ha detto oggi il direttore, parlerà con tutti per vedere il futuro di ognuno di noi. Il Tg Max termina qui, vi ricordo che Tg Servizi e Programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it. Siamo anche sul nostro canale YouTube e sui nostri profili ufficiali di Facebook e Twitter. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.